Dal 1 luglio si potrà tornare a nascere all'ospedale San Biagio. Il punto nascite di Domodossola sarà nuovamente a regime il primo mercoledì del prossimo mese. L'annuncio oggi con una nota congiunta dell'assessore regionale Cardi, del capogruppo leghista Palazzo Lascaris Preioni. Ad aprile, si legge nel documento, la necessità era stata quella di liberare risorse professionali e attrezzature sanitarie per far fronte all'emergenza Covid. In questa nuova fase le priorità sono altre, possiamo pertanto riattivare il servizio domese. A dare loro notizia della ripartenza del punto nascite sarebbe stato il direttore generale dell'Aslo, Angelo Penna. Una notizia che ci soddisfa, dicono ancora i due esponenti regionali, perché le promesse vanno sempre mantenute, soprattutto perché il presidio solano è da considerarsi di vitale importanza in un'area a vocazione montana, quale è appunto la valle. Nella nota Preioni ha anche preannunciato l'invio a breve di un sollecito all'Aslo del VCO, affinché si provveda presto anche alla riapertura del country pediatrico del San Biagio, dove da tempo sono terminati i lavori di ristrutturazione. Opere, ricorda il leghista, avviate nel 2018 per migliorare l'accoglienza dei piccoli pazienti. Alla notizia odierna, applaude il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, solo pochi giorni fa era tornato sull'argomento, inviando agli uffici di Viale Regina Margherita Torino una sorta di out-out. Notizia positiva, quella odierna, bene, dice Pizzi, ma se le promesse si rispettano sempre, ora è tempo che la regione Piemonte onori anche un altro impegno, quello della costruzione del nuovo ospedale a Domodossola.